Ciao amici e benvenuti in questo video che ufficialmente è il settantesimo video che carico su questo canale e il sedicesimo giorno consecutivo e già mi sembra incredibile e voglio approfittarne per salutarvi e ringraziare tutti voi che mi seguite e che mi iscrivete per incoraggiarmi. Non ho più il tempo per dirlo in ogni video ma sarò assolutamente felicissimo e super grato a tutti voi che deciderete di iscrivervi al mio canale permettendomi di crescere su youtube e se vorrete supportarmi potrete effettuare i vostri acquisti su amazon seguendo i link che troverete nella descrizione dei miei video. A voi non costerà niente di più ma a me darete un grosso aiuto. Vi saluto anticipandovi che da settembre ne vedremo delle belle ma continuate a seguirmi e a suggerirmi argomenti per questi video che continuerò a pubblicare anche ad agosto e nel frattempo aiutatemi a scegliere l'hashtag per questa serie votando nei commenti il vostro preferito. Grazie ancora e ci vediamo domani!